San Pio da Pietrelcina Non lasciatevi vincere dallo sconforto. Fa in questa maniera. Cerca di voler fare sempre il bene. Se ti riesci di farlo, lodane e ringraziane Dio. Se poi con tutta la tua vigilanza e buon volere non riesci a farlo in tutto o in parte, umiliati profondamente dinanzi a Dio, ma senza sconfortarti. Proponi di stare più attento per l'avvenire. Chiedi il divino soccorso e tira avanti. Padre Pio, a me piace così chiamarlo, perché è il santo dei nostri giorni, il santo forse più popolare del momento, più familiare del momento. è un santo che un po' tutti noi ci rivolgiamo con piacere. Anche per sentire ancora un po' l'eco di tutti i consigli che lui dava quando era in vita. Voi pensate, tantissima gente accorreva a lui. Padre Pio ci dà in questo pensiero un bellissimo suggerimento. Dice di fare sempre il bene. E di fatti bisogna sempre operare il bene. Il male bisogna sempre fuggirlo. Non bisogna mai ricambiare il male con il male. ma fare sempre il bene. E quello che noi ci siamo proposti di fare, se non riusciamo a farlo tutto in una giornata, non ci scorreggiamo. Il giorno dopo rinizieremo da dove siamo arrivati. L'importante è operare il bene. bello.